ok ragazzi facciamo prendiamo presto a questi come 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 guys come here come here come here come here non lo faccio via non lo faccio via non lo faccio via non lo faccio via sto proprio messo via no ragazzi devo comunque avere delle armi per difendere e speriamo che non le ho aiutate qua cioè come avete visto nella seconda parte la seconda io le dirò quello e quello lo se ne fregavano uh bello qua oh c'ho qualcosa c'ho qualcosa ok si ho trovato molto altissimo 15 16 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Sì 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 e e e e e e che cosa? che cosa ve l'avevo detto io? che c'era un botto di roba? e non ha più il suo corpo, che è più più, va? e poi fuggi la compagnola, la mia lecola è qui qui? e poi fuggi la compagnola, la mia lecola è qui Murat Sermian nerede? Ne yapıyor ya? E' un pescello. Poi c'è un altro. Gia lo so. Poi c'è messa un altro. La casa che c'è. non lo lascia lascia qua la lascia qua oh guarda l'ho detto io non lo lascia pronto vabbè raga comunque alla fine del video vi faccio sapere se ho finito bene se ho finito bene la gara o no a dopo raga praticamente siamo morti tutti tranne lui ora muore praticamente è morto anche lui puntualmente mi disturbo no? che palle poi altri tre di loro siamo arrivati terzi alla fine comunque un buon risultato allora raga spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un pollice in su e ci vediamo al prossimo video bye bye